bella vittoria ieri della Lazio Damiano hai visto che l'altra partita è andata come dicevo io? si ha vinto il Gala non era facile secondo me ieri un'ottima partita della Lazio un'ottima partita della Lazio Immobile di nuovo in forma Pedro molto in forma e poi quella cosa di Immobile che gli indica il rigore è bellissima ragazzi adesso ci arriviamo troppo troppo bella se primo tempo un po' così qualche occasione sul calcio piazzato aspetto che mi metto anche la telecronica io non me la son vista ragazzi ieri sera che ho scritto ha fatto una bella partita soprattutto nel secondo tempo quando ha messo Pedro io mi sono visto le storie di Damiano e l'ho chiamato perché mi sarebbe piaciuto fare un format con Sharon dove fa la vita di fianco a Damiano il Faina perché mi immagino sta donna che ogni ieri sera quattro volte si è dovuta sentire un lare Ciro qui il VAR come l'hai visto Faina no vabbè questo è il rigore sacrosanto io se proprio devo avere qualche dubbio ce l'ho sul secondo forse però il primo questo mi è sembrato sacrosanto ci siamo ancora ci siamo ancora mamma mia che vita che deve fare questo qualche dubbio ce l'ho però prende un po' tutto qua ma insomma Faina lo sentite male anche voi o solo io? no no io sento bene no secondo me questo qua è in più di qualche dubbio dammi inciampa un po' da solo dai sinceramente ora non cambiava il suo risultato non penso che peccato qua che se la scarica per Murici secondo me sbaglia pure quello Murici però fa go c'è un tocco ha segnato Murici? no 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 questo ha peccato perché c'è una rivartenza da Cerbi che dopo lui fa un post bellissimo no qua si mangia sto collo e dopo fa un post bellissimo Cerbi che scrive non ho voluto segnare per non togliere la prima pagina a Ciro Immobile beh ragazzi qui il Petro fa un go da fenomeno sul sinistro qui il Petro ha deviato eh torna a segnare no 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 diretto diretto eh ma che ragga un pochino minchia comunque qui Petro fa un gol ragazzi Asso grazie comunque non smetterò mai di ringraziarvi per questo giocatore aspetta che ci vediamo il post di Acerbi questa era la partita che doveva segnare Murici Damiano no 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 ha avuto pure una mezza occasione però è andato eccolo qua eccolo qua sul 2-0 sbagliato davanti al portiere per non portare via la scena a Ciro Immobile si è ripreso Immobile quindi eh sì no ha giocato benissimo ha fatto il lavoro che doveva vabbè ragazzi Ciro Immobile al di là dei due rigori a parte che poi abbiamo visto che i rigori bisogna pure saperli segnare ah 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 amico amico tacchino no ma io ho detto no ma io ho detto semplicemente guardate io ieri commentavo l'Alasio in live quindi in live ho detto che il secondo rigore di Immobile non mi è sembrato così sacrosanto il difensore prende tutto ma dopo i rigori visti i dati contro di noi ergo quello che hanno dato alla Juve per farlo De Cataldi su Morata me lo tengo stretto questo insomma quindi lo metti in quella schiera lì di rigore un po' che non saresti andato a rivedere no no ma allora per me il primo è sacrosanto e voglio sentire anche la vostra opinione perché secondo me il difensore fa un intervento folle prende tutto prima è nettissimo in aria il secondo ragazzi per me per me è ma come non avrei dato quello De Morata non avrei dato neanche questo cioè sono sincero su questo però visto che ormai in Italia e in Europa il trend è quello ragazzi che vedevo di un giorno a me e un giorno a voi eh sì 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 però non ti lamentare poi perché io mi ricordo sulla Juve che hai fatto un processo dicendo tirati via la maglietta ma lo dico ancora cioè io oggi non è che venga a dire no è sacrosanto perché Leandro il signorino diceva no è sacrosanto no beh dammi adesso oggettivamente sacrosanto mi sia sacrosanto no no non sono d'accordo mia zia per poi rimettere no perché quello su Morata è molto più netto di questo qua non lo prende non lo prende ma come non lo prende dammi non lo pia ma lo ma scusami cioè tu non puoi contare lo prende dopo lo prende dopo eh ho capito ma se uno fa una scivolata non è che lo puoi vedere al rallentatore per il sottoscritto non è rigore né quello su Morata né quello il secondo su Immobile ma visto che il trend che abbiamo preso è questo sono rigori tutti e due ma io più essere sincero di così che cazzo ve devo dire no no ma tu hai il diritto anche di vederla diversa da me cioè non è che sono oggettivo io sono oggettivo sui cazzo io penso che sia il filo ferro che ha dato Camelio che sta vestito da pastore santo che facciamoci vogliamo rivedere quello di Morata no io volevo rivedere quella di Morata se la siamo visti se puoi rimettere questo qua invece sulla Lazio perché secondo me questo qua è oggettivamente molto meno grave cioè era già per terra ma secondo me è inciampato su se stesso Immobile cioè non è che ha simulato Immobile ve lo rimetto ve lo rimetto eh non lo vedo però ma fratto quello di che ma stai vedendo la pubblicità no non sto vedendo niente non lo fa aggiungere ma non so che cosa tu abbia schiacciato eh aspetto che lo rifaccio lo stadio sta scoppiando no scusa mi asso solo che l'abbia sentita prima mi è rimasto in testa non far quella faccia lì sei stanco eh ste? ti vedo stanco provato ma stai ieri faceva freddo acqua e pioggia acqua freddo pioggia hanno preso tutto ieri ste dopo ci facciamo i sorteggi al volo mentre aspettiamo anche da Ammi intanto qua c'è il coso ti volevo chiedere come la vedi il sorteggio sulla nazionale voglio sei positivo? voglio essere fiducioso prima chitto non vuoi prendere la prima partita al portogallo quindi chitta capita capita da giochi ma se torniamo a quelli di luglio però eh sì a che minuto è Dami? eccolo dovrebbe essere questo ma provo è il primo è il primo mazza che ferma immagine che ha preso Manfredi dietro ma comunque devi comprare un mouse te lo dico da amico proprio no non è il mouse non sta andando il play della partita aspettate la devo rimettere scusate ragazzi ma che c'è la collezione a parabola Manfredi? no secondo me c'ho un computer con troppe cose aperte per essere questo computer capite? io vi dico che secondo me finisce che prendiamo la Polonia come dicevano in chat oggi sulla fucina per me è la Macedonia comunque Andrea Manfredi non si vede l'hai ritolto Manfredi eh sì sì l'ho tolto perché è bloccato se potete andare a vedere le mie storie è quello che ha detto Pedullà oggi adesso ci andiamo l'ultima volta a riprendere il rigore e ho tirato fuori pure Napoli e Michetta su Messi che mi sembrava dovuta ma è la sua solita critica che al PSG non sta rendendo eh questa cosa qua non mi sembra di aver detto una cazzata tra l'altro Andrea sai che il eccolo qua salve ci stiamo in ritardo cominciamo a giocare buon poveriggio a tutti ma dove eri? dove eri? nooo vuoi che la verità sì ti sei appena svegliato no eh vabbè vabbè che vita che fa grande grande Augu io ho dormito due ore poi ho preso l'aereo sono arrivato all'uno a casa è il tempo di provarmi un piatto di pasta ha detto faccio mezzoletta di sonno me ne so fatta un'ora allora intanto faccio entrare anche finché ci siamo Carmi così dopo passiamo anche a fuck the tipster ciao Carmi fuck the tipster buon poveriggio ciao Carmi allora August stavamo guardando lo dico anche a chi si è collegato ora è a Carmi il rigore della Lazio di ieri sera perché è un pochino dubbio non tanto perché tu dici il primo o il secondo? il primo è giusto? eccolo prima è netto ah no scusate il secondo il secondo Manfred eccolo qua questo è netto oddio questo non ha neanche visto il bar è andato diretto aspetta che ve lo faccio rivedere credo che il difensore prenda la palla e poi sempre con lo stesso piede arrivi di slancio tipo arrivi sulla caviglia di Immobile sì ma non è mai rigore questo qua allora questo è diciamo una chiara situazione di discrezionalità dell'arbitro cioè nel senso in base a come vede l'impatto tra il piede del difensore e dell'attaccante perché se ti colpisce comunque tu non sei più in condizione di poter giocare quel pallone ok? anche che lui lo prende quindi se l'arbitro vede un impatto diciamo così forte da aver causato il dolore la caduta di Immobile ho fatto il pool ragazzi votate al pool intanto secondo ecco infatti anche secondo la chat al 90 no al 78% e no secondo me cioè lui si vede chiaramente raga che prende prima la palla e poi arriva anche su Immobile però c'è il tentativo di quello di togliergli la palla cioè se no veramente giochiamo a eh diciamo che è più un errore darlo che non darlo in teoria però non avrebbe cambiato il risultato questo allora io dico io condanno tu invece dell'arbitro dico innanzitutto che questo è un rigore che olo porca puttana vuoi vede che c'è un c'è un lag eh io lo sapevo sto cazzo di team raga scusate io non so che cazzo farci c'è la team che da aspettate ragazzi che c'è stato secondo me un calore di linea mo' siamo tornati non si vedeva sto cazzo di team di merda Agosto invece è rimasto a Mosca era rimasto con la condizione no io ecco questi bug questi bug Agù dicevi no io dicevo caccio di rigore questo è chiaro io lo sto ripetendo adesso perché io non avevo i monitor l'ho rivisto diciamo che può starci il fatto che il calciatore prenda prima la palla l'arbitro era lì secondo me secondo me ha valutato anche la complessiva entrata di tutti i giocatori della locomotive che dal primo minuto hanno commesso dei falli abbastanza importanti delle entrate pure il primo rigore no pure il primo rigore se tu vedi prende il pallone no ma sei impressionante sei impressionante sei impressionante la somma dei falli dati in tutta la partita no ti sto spiegando allora il primo rigore se tu vedi prende il pallone e poi falcia a Zaccagni è più o meno lo stesso infervento è più o meno lo stesso infervento secondo me lui lì vuole mettere un freno perché era la terza quarta quinta entrata dove loro prendevano i piedi dei giocatori della Lazio in maniera violenta ragazzi ma quello di Morata l'abbiamo già visto lo dico scusa se c'è in Italia intervenne il VAR se non lo fischia è invece sbagliato secondo me lo deve fischiare l'arbitro poi giudica lui se ricorre o meno comunque August è il peggio di Damiano sei peggio di Damiano addirittura mi sembra di essere abbastanza equidistante ma vai affanculo vai la somma loro avevano picchiato prima allora gli diamo il rigore ma che ragionamento è e beh per allora comunque per compensazione no no ma allora l'arbitro deve avere un metro e che il metro lo generano anche i tipi di scontri che hanno i calciatori in campo se i calciatori in campo hanno determinati tipi di scontri l'arbitro si adatta anche un po' alla partita se la partita diventa maschia e l'arbitro non fischia mai diventa un wrestling dopo questa è la situazione si vabbè discutibile no io la compensazione la capisco solo quando c'è un mega fallo che lo fischi da una parte uno dubbio lo fai dall'altra ma non che fai una somma per poi dire non gli ho fischiato questo e quello l'hanno picchiato e gli do rigore però deve essere tra l'altro in un'azione vicina però non lo so ragazzi facciamo chiarezza col nuovo col nuovo cioè che poi non c'è un nuovo regolamento ma con le nuove cose che hanno fatto le modifiche cosa abbiamo deciso che questo tipo di fallo dobbiamo perché l'importante è che è uguale su tutti i campi ma anche questo tipo di fallo dovremmo questi contatti in mezzo al campo ne fischiano cioè nel senso prende palla quindi in teoria rigore in teoria ti posso dire che sei arbitri o cinque arbitri su dieci possono dare rigore qui cioè non è una situazione così clamorosa è una situazione dove un arbitro magari lo può dare un arbitro non te lo può dare perché ti dico questi contatti così duri magari che prendi sia palla che piede in mezzo al campo te lo fischiano solo che non si rinnovano a nessuno perché perché non è un rigore cioè non è dentro l'area capito è quella la situazione perché magari non lo vai a sottolineare c'è da dire che rispetto all'Italia c'è secondo me l'applicazione più corretta del VAR ecco che lascia all'arbitro ancora un ruolo centrale su questi tipi sull'interpretazione di questi tipi di falli in Italia secondo me sarebbe intervenuto al VAR secondo me come lo stiamo facendo noi che è diventata una specie di moviola in campo dove si interpretano le entità dei contatti in Europa il VAR interviene solo in situazioni diverse e interviene molto meno rispetto che in Italia Asso per chiudere ma vabbè parla a cacusa è come parlare veramente con uno che non capisce il cazzo proprio ma non è una perfetto però ti ha chiesto un'opinione non ti ha chiesto un'opinione su quella che ho detto io ti ha chiesto un'opinione su quello che è successo Andrea non ha capito quando mi chiama a me perché devo coraggiare stronzate che dici te non ha capito grazie grazie no ma tu hai capito benissimo lui che non gli conveniva allora visto che stiamo per andare su Fuck the Tister non ha detto niente hai detto che non capisci un cazzo quello che interessava allora ragazzi dopo alle 17 faremo la live speciale per i sorteggi vediamo un attimo per capire insieme come sono composti le 12 squadre che si dividono in due fasce allora la prima ci sono gli azzurri insieme a Portogallo Russia Scozia Svezia e Galles il privilegio sarà di giocare la semifinale scusate la dislessia di spareggio in casa in caso di spareggio grazie intanto a Gabibbo21 per il secondo non è in caso la semifinale è una quindi la chiama di spareggio ok allora leggi tu mi hai già rotto i coglioni basta no tu hai detto in caso di spareggio va bene vai avanti che pareggiano e fanno l'altro vabbè faccio l'offeso un po' dai vai c'è una semifinale e la gioca in casa la squadra di prima fascia che ovviamente può affrontare quella di seconda e poi può affrontare quella che ha vinto l'altra semifinale chi sono che te le ho messe piccoline così che non vedi faccia di merda chi sono quali la seconda fascia Austria Irlanda Repubblica Ceca già no basta Austria Repubblica Ceca Macedonia Polonia Turchia e Ucraina il sorteggio segnerà le squadre della seconda fascia agli accoppiamenti delle semifinali una alla volta con alcune restrizioni per dire Ucraina e Russia non potranno essere accoppiati ecco questa è una cazzata perché sono troppo vicine perché sono in guerra perché sono in guerra ma a me sinceramente non me ne frega un cazzo non avevamo tra l'altro dubbi allora che facciamo dichiariamo guerra al Portogallo così almeno scusate mi sembra logica come roba tra l'altro non so come non ci abbiamo pensato fanno uno squilla a Mario Draghi a Mario faccia la cortesia demanda che una lettera ha ambasciato il Portogallo che peggio ragazzi a voi ve la dite è aperta se vuoi faccio un pull in chat dichiariamo guerra al Portogallo sì o no chiaro diciamo che non è come il rischio a me so anni che si portogesina che a me stanno proprio simpatici so anni che sto faina ma fai l'onesto sei campione d'Europa te ne dovresti sbattere di affrontare il Portogallo ma perché te trasferisci a Birmingham te io io amo l'Inghilterra e vai a vivere se ancora rompì i coglioni in Italia però